Quando i tribunali entrano a gamba tesa nella politica, cosa che succede ciclicamente, l'esito è spesso paragonabile alle divertenti e ludiche bolle di sapone. Meno divertente, molto meno ludica è la vicenda vissuta dal Berico Gambino, storico esponente politico dell'agronocerino sarnese, che è stato recentemente assolto da tutte le accuse, in un procedimento giudiziario finito per l'appunto in una bolla di sapone. Purtroppo sì, da un lato purtroppo per i 12 anni, fortunatamente perché si è arrivati all'epilogo e alla fine dove si è sancito in modo chiaro e netto che tutti i fatti terribili che mi erano stati attribuiti non esistevano proprio. Ma io sono un uomo delle istituzioni, ho fiducia della giustizia perché ci sono tante persone, come magistrati che ho incontrato ieri persone libere, coerenti, persone giuste che alla fine analizzano gli atti, leggono le carte e poi giudicano. E quindi sono convinto che la grande maggioranza dei magistrati lavora in questo modo. 12 anni sono terribili, io avevo ancora questo cruccio nel mio cuore che ieri mi sono tolto e finalmente posso dire e posso gridare al mondo intero che ho un carico pendente pulite. Quindi oltre ad avere un casellario giudiziario, nulla ho un carico pendente pulite che per me rappresentava una cosa terribile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.